Il nostro centro si chiama Mandala Samtenling e dà sede in Graglia Santuario in provincia di Biella. Noi siamo qui da circa 20 anni. Le nostre attività principali sono la meditazione, insegniamo le basi del buddismo e facciamo dei ritiri spirituali. In genere la gente viene perché è incuriosita e poi ci chiede che cosa può fare. Allora noi suggeriamo innanzitutto delle letture, poi se vogliono possono partecipare ai nostri insegnamenti e quando decideranno di essere pronti per ricevere delle iniziazioni inizieranno il percorso buddista. Il percorso buddista è un percorso spirituale ma è anche un percorso di vita perché ci fa capire le cause e le condizioni delle cose, ci fa comprendere la reale natura dei fenomeni e soprattutto ci insegna l'impermanenza e l'interdipendenza. E se noi impariamo a vivere bene il qui e ora possiamo poi anche essere tranquilli, sereni e sviluppare pace interiore e altruismo. La pratica, certamente, è una pratica che permette di vivere la realtà esattamente come se fosse una cosa nella quale siamo immersi e con la quale dobbiamo confrontarci. Quindi la pratica è sicuramente di conforto nei momenti difficili perché ci aiuta a superare le difficoltà, ci aiuta a superare le circostanze avverse, ci conduce alla stabilità mentale e soprattutto la pratica buddista ci esorta alla fratellanza e alla compassione. Il nostro contributo all'ambiente, quando noi siamo venuti qua la gente aveva delle difficoltà ad accettarci, però noi abbiamo sviluppato, ad esempio sul territorio, il dialogo interreligioso, cosa che prima non si faceva, diamo luogo a delle iniziative culturali, facciamo delle tavole rotonde, diamo dell'assistenza spirituale a tutte le persone che sono in difficoltà e non è necessario che siano delle persone buddiste, sono anche appartenenti a delle altre tradizioni e che ci chiedono un consiglio. Riceviamo delle scuole, vengono gli allievi di diverse scuole primarie e noi abbiamo intenzione anche, abbiamo un progetto di realizzare un corso di meditazione per le scuole elementari. È da due anni che stiamo lavorando alla realizzazione di un centro sociale per anziani e la nostra prima preoccupazione per quello che riguarda l'ambiente è preservare tutto il nostro comprensorio nella sua condizione originale e soprattutto per quelli che vengono da fuori organizziamo delle giornate di immersione nel verde per conoscere la natura e rispettare l'ambiente. Grazie a tutti!